ciao benvenuti sulla nostra pagina ciao a tutti grazie per averci ospitato io sono matteo pironi di top hat games e io giacomo santopietro di sir chester cobble pot come è nato il vostro gioco arena colossei l'idea del gioco nasce da un progetto fatto in famiglia più precisamente la famiglia ghetti aldo il papà e già dai fabio i suoi figli erano appena usciti dal cinema avevano visto il famoso film e gladiatore di ridley scott e avevano voglia di creare qualcosa che gli permettesse di rivivere le spettacolari scene di combattimento dell'arena a casa propria un giorno dopo che avevano realizzato un primo primissimo prototipo del gioco lo portarono ad una manifestazione a cui noi come cobble pot partecipavamo ci hanno convinto a giocare con loro a questo progetto che sembrava molto più un war game all'epoca che un vero e proprio gioco da tavolo ma ci convinsero subito notammo immediatamente l'incredibile potenziale che che aveva il sistema e tra l'altro fu in realtà uno dei primissimi progetti che abbiamo deciso di produrre come come cobble pot games dopo tanti anni di lavoro eccoci qua con arena colossei abbiamo visto che le vostre miniature sono veramente dettagliate come e che ricerche avete effettuato abbiamo avuto la fortuna di lavorare con la orco nero miniatures che è uno studio formato da dei grandissimi scultori professionisti tra i quali appunto alan d'amico che è diventato anche il capo scultore si è innamorato subito del progetto appena glielo abbiamo presentato e assieme agli autori e ad alan d'amico lo scultore e alla dodicesima legio che è un gruppo una squadra la chiamerei io di renector abbiamo lavorato in sinergia e abbiamo utilizzato una metodologia che è quasi avveniristica per il mondo dei board games cioè quella che assomiglia un po per esempio alle grandi produzioni cinematografiche quella della motion capture chiaramente abbiamo utilizzato delle tecnologie molto più semplici però con dei video e delle foto e dei filmati siamo riusciti a riprodurre chiaramente una volta arrivati alla scultura delle miniature i movimenti che i gladiatori facevano durante i combattimenti nelle ludus gladiatori e quindi questo ci ha ci ha permesso appunto di attenerci molto alle tecniche di combattimento che venivano attuate all'epoca grazie appunto a una una forte accurata ricerca filologico storica di tutto il progetto però alcune di queste non sono perfettamente storiche come mai le licenze poetiche che ci siamo presi sono veramente poche chiaro che anche l'occhio vuole la sua parte e quindi tutti gli equipaggiamenti sono ricostruzioni dei veri reperti ritrovati in giro per l'europa sappiamo che alcuni equipaggiamenti spesso gli elmi ad esempio come quelli che abbiamo dato ai nostri veteranus o eros erano più equipaggiamenti da parata cioè quando che usavano quando facevano sfilate o comunque situazioni sociali chiamiamole così ma chiaramente sarebbero state troppo scomode per essere realmente utilizzate durante un combattimento però erano belle e nella ricerca di andare insomma una differenziazione tra i vari livelli erano impossibile non fare la scelta di riprodurre quegli equipaggiamenti sulle miniature parlando degli eros precisamente poi tenete conto che la ricostruzione di questi personaggi storici può essere basata solo dalle poche descrizioni di cronaca dell'epoca al massimo su qualche vecchia immagine rurale una moneta un vecchio dipinto o cose di questo tipo vi invito a fare una ricerca su google immagini cercate marcus attilius gladiator e vedete che cosa vi appare come primo risultato ecco quella è l'unica incisione esistente diciamo facilmente reperibile di marcus attilius il nostro eros mirnillo capirete che cosa intendo se l'avete vista da lì abbiamo dovuto colmare i tanti spazi mancanti chiaramente animati dal desiderio innanzitutto di fare una bella miniatura che risultasse epica e quindi interessante per il giocatore da tavolo moderno per intavolarla nel combattimento di arena colossei ma non solo miniature avete anche inserito una torre per tirare i dati da reperto storico beh sempre per il discorso dell'accuratezza storica diciamo che visto che il nostro gioco utilizza il dado che è uno strumento che era molto caro agli romani ci sembrava giusto tributargli un oggetto che poi i ragazzi della urco nero miniatures hanno eseguito magistralmente e quindi è disponibile nel nostro gioco quali sono i punti di forza del vostro gioco beh urca che domanda quanto tempo abbiamo non so su un paio d'ore se ce le abbiamo riesco a dirle tutte no a parte gli scherzi allora molte cose le abbiamo già accennate come quella appunto della veridicità storica l'accuratezza che c'è nelle miniature la bellezza delle miniature stesse il fatto che il gioco presenta delle meccaniche altamente innovative io personalmente ho sempre mi sono sempre ripromesso di portare questo gioco in tutta italia perché ha una caratteristica che io ho trovato veramente in pochi giochi perché è uno dei pochi giochi dove mi diverto anche a vedere giocare gli altri è una cosa incredibile e poi credo che uno degli altri punti di forza la longevità di questo gioco perché all'interno ci sono talmente tante combinazioni di gioco che possiamo utilizzare con i nostri gladiatori e le meccaniche che ci sono inseriti dentro il gioco che veramente secondo me gli da una longevità veramente molto alta a tutto quello che ha già detto matteo mi sento personalmente di indicare una cosa e se dovessi scegliere la simmetria cioè il fatto che ogni gladiatore ha una giocabilità unica e che con poche regole di differenza veramente cambiano la strategia e la tattica enormemente ed è qualcosa di straordinariamente moderno anche se in realtà ha ridici antichissime perché tutto nasce dal grande lavoro che facevano gli editor dell'antica roma cioè le persone incaricate di creare gli spettacoli dei gladiatori gli spettacoli gladiatori quindi il loro compito era avere figure gladiatorie equilibrate tra di loro in modo da dare vita a grandi spettacoli dove il combattimento poteva sempre essere sul sul filo di lana e questo come sempre accade dimostra insomma che la cultura la storia può raccontarci tanto di quello che siamo ancora oggi e quali sono invece le dinamiche di gioco beh la dinamica principale del gioco direi che è quella di movimento con le carte che propone scelte sia strategiche che tattiche perché prima ognuno deve formare una mano di gioco selezionando le carte in dotazione per scegliere quelle che vuole utilizzare nel corso del round ma poi vengono giocate e scoperte applicandole una ad una di ciascun turno potendo così interagire di conseguenza a quello che fanno anche i nostri avversari non abbiamo dovuto prefissare tutto l'ordine tutta la strategia anticipatamente ma possiamo appunto intervenire con con della tattica questo senza dubbio è la meccanica che permette al giocatore che si impegna di più e che si concentra maggiormente di fare la differenza rendendolo un gioco enormemente meritocratico nonostante ci sia la presenza del dado e di alcuni elementi aleatori questo è senza dubbio il principale ma mi permetto di aggiungere giacomo che siccome le dinamiche sono veramente tante variegate noi invitiamo a provare il gioco almeno su tabletop simulator che diciamo in questo periodo soprattutto di che ci blocca a casa è una buona soluzione alternativa alle fiere dove in realtà poi i giochi si provano e si sperimentano quindi chi di voi è interessato a provare il gioco sulla piattaforma online può entrare nel nostro sito della topette games e fare una richiesta specifica e poi provare il gioco kickstarter e google speriamo che li raggiungiate tutti ma quali sono state le difficoltà ah beh questa è un'altra domanda da quanto tempo ho per rispondere se ho delle ore rispondo volentieri scusatevi scherzo ovviamente ma per non annoiare troppo posso dire che veramente arena col 6 è un gioco che ha messo alla prova tutti noi e tutte le nostre capacità produttive perché richiede l'utilizzo di tantissimi componenti come prima io già come abbiamo accennato no tra cui le miniature le speciali basi fitec system tutta la componentistica che ci va ci va dietro ci rendiamo conto che non è un gioco facile da stampare per qualsiasi editore specialmente se poi alle spalle non abbiamo una produzione così massiccia di miniature per poterlo produrre diciamo a condizioni particolarmente competitive è necessario qui il supporto di tanti clienti e tanti appassionati non nascondo che questo è chiaramente la parte più difficile di tutte convincere chiaramente il pubblico eccetera però noi una cosa che ci è stata riconosciuta come topete e tuttora anche in questa campagna ci viene riconosciuto molto è anche il rapporto che abbiamo costruito col nostro cliente noi parliamo siamo una delle aziende che ha deciso di parlare con il cliente quindi se qualcuno di voi fosse interessato vale sempre la solita frase no contattateci nel nostro sito è veramente noi vi rispondiamo eventuali set che non saranno inclusi inserirete come set da acquistare a parte nel tempo beh guarda quando ci siamo ritrovati in mano arena colossei grazie alla coble pot che ha prodotto un materiale infinito di cose da poter produrre che avete questo non ha semplificato il nostro lavoro da editori però è uno stimolo fortissimo l'idea era quello di sfruttare diciamo tutti gli stretch goal per garantire gratuitamente tutte le espansioni che abbiamo pensato introdurre nel gioco mentre avere d'altro canto come add on quindi a pagamento i componenti accessori per cui i collezionisti che poi amano avere tutto del gioco anche quello che è stato previsto perché come ripeto di materiale ce è veramente veramente tanto questa è la proposta che noi come topet come editori abbiamo ragionato e strutturato per cercare di rendere al meglio il rapporto qualità prezzo ed avete intenzione di fare una versione app ci piacerebbe arena colossei attualmente è un gioco troppo complesso per pensare di sviluppare internamente una versione digitale che vada ovviamente oltre a quella della prototipazione che abbiamo già fatto per tabletop simulator quindi in un certo punto di vista si può già dire che ne esiste una versione digitale grazie a quella piattaforma che come ricordava matteo è possibile provare gratuitamente grazie alla topet games chiaro che in futuro sì sarebbe bello se qualche software house che abbia interesse per questa tipologia di giochi si facesse avanti penso che potrebbe uscirne un prodotto molto buono anche in forma videoludica proprio perché il fight ex system e diciamo tutto il regolamento di arena colossei è molto preciso molto strutturato quindi delle logiche da computer diciamo così potrebbero rendere molto bene anche in una immaginaria sezione competitiva contro il computer ecco immagino che abbiate in mente molti progetti qualche anticipazione come ser chester coppel pot in realtà ritorniamo su kickstarter tra pochi giorni grazie alla partnership con galacta che lancia il nostro nuovo progetto the shadow planet di cui tra l'altro sono autore insieme a gianluca e poi abbiamo molto altro in cantiere come potete facilmente immaginare tra cui un nuovo progetto a cui teniamo molto un progetto biografico dedicato a un famoso pittore nord europeo immagino che sappiate di chi sto parlando ma non mi posso sbilanciare oltre invece noi della topet games va bene siamo chiaramente impegnati come ben si sa sulla campagna di arena colossei siamo in procinto di consegnare la special limited edition del gioco ufficiale delle celebrazioni nazionali di dante 2021 abbiamo avuto l'onore di essere l'editore di questo gioco visto che siamo nell'anno dantesco e sempre per quanto riguarda dante una piccola anticipazione che possiamo fare è che stiamo facendo il secondo capitolo legato al nostro primo kickstarter che fu quello di the fall of the king della battaglia di fossalta sul ventura battle system che è una un war game e stiamo cercando di capire se fare un kickstarter sulla battaglia di campaldino dove dante era partecipato perché dante era un poeta ma è stato anche un combattente non si direbbe io l'ho scoperto studiando vedete cosa si scopre studiando però adesso devo dire la verità che in questo momento siamo molto concentrati sulla campagna di arena colossei grazie del vostro contributo siamo felici di aver ospitato la vostra realtà speriamo di incontrarci presto beh grazie a voi voglio dire dell'ospitalità e voglio dire speriamo di incontrarci nell'arena se ci incontriamo menate forte però non troppo ciao a tutti ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti